Ricettavano oggetti preziosi, lingotti in oro ed orologi di pregio di ingente valore, trafugati in molti furti in appartamenti di lusso. E così la Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione su disposizione della Procura della Repubblica di Roma ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale della Capitale nei confronti di otto persone, italiane e straniere, gravemente indiziate da appartenere a un'associazione delinquere operanti a Roma e nelle province di Foggia, Terni, Frosinone, Latina, L'Aquila e Viterbo. In particolare, il provvedimento cautelare è stato emesso nell'ambito dell'operazione Spirti a seguito di indagini effettuate tra novembre 2019 e marzo 2020 che hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di cinque persone di nazionalità albanese, due italiani e un macedone.